a natale stiamo a fare i regali a tutti stiamo a fare i regali a tutti ma a me chi ci pensa? e allora in un periodo di austerity in un periodo di ma me lo stai regalà o me lo sono comprato? tu lo sei comprato ah 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 no per che tempo... E' il mio tosta aspetta ce ne erano due la dentro ah ah che faccia di brunzo che sei уч ma un mazzo come so comprato...mai metti questo su brunzo perché io me lo metto